La critica del giudizio è la terza critica scritta da Kant dopo le altre due, precisamente la critica della ragion pura e la critica della ragion pratica. In questa terza critica Kant si pone il problema di come conciliare il meccanicismo della natura, esito della critica della ragion pura, con il tema della libertà umana discusso all'interno della critica della ragion pratica. Come nella ragion pura Kant ha preso le mosse dalle forme a priori dello spazio e del tempo, intesi come i principi per ordinare il moltiplice conoscitivo e come nella ragion pratica ha preso le mosse dalla forma del dovere, inteso come principio per conferire moralità alle azioni, così nella critica del giudizio Kant parte dal sentimento del bello, del sublime, della finalità, quale principio capace di unificare tutte le leggi e tutto il dinamismo della natura. Va precisato che in questa opera Kant parla di giudizio non determinante ma riflettente, il che significa che ci troviamo davanti a giudizi di mera ipotesi di lavoro necessari alla nostra mente se vogliamo raggiungere una visione coerente di tutta la natura. In altri termini noi pensiamo tutti i fenomeni della natura come se essi costituissero un tutto organico e finalizzato per l'uomo. Kant ritiene pertanto che l'interpretazione finalistica della natura è possibile grazie non al giudizio determinante ma a quello riflettente. Il giudizio determinante è tipico della scienza ed è detto determinante perché determina teoreticamente l'oggetto, lo fa conoscere nelle sue leggi scientifiche assolute e oggettive, quelli della scienza sono tutti giudizi determinanti. Il giudizio riflettente invece nasce da una riflessione sugli oggetti che l'uomo immagina come se fossero in armonia con gli altri oggetti e con l'uomo. è un principio guida, è un giudizio sentimentale, una sorta di ipotesi della finalità della natura. Questa finalità della natura può essere intravista, secondo Kant, a due livelli. Il primo con il giudizio estetico, quando il giudizio riflette sul bello e sul sublime, che sono ambedua giudizi riflettenti e non determinanti, è appunto la differenza nel fatto che il piacere del bello viene dall'armonia, dalle piccole cose si produce serenità. Il piacere del sublime deriva dalla disarmonia, dalle cose illimitate, produce commozione se nel livello l'animo è semplicemente attratto dall'oggetto, in questo caso si parla di piacere positivo. Nel sublime l'animo umano è attratto e insieme respinto, è piacere negativo e quindi il sublime nasce dal paragone tra la soverchiante grandezza della natura e la superiorità morale dell'uomo. È una sorta di rivisitazione di Pascal. L'uomo non è una canna, ma una canna pensante, dice il filosofo francese. Il sublime è, secondo Kant, di due specie. Il sublime matematico deriva dall'infinitamente grande, come la visione dell'oceano, delle stelle di un'immensa prateria. Il sublime dinamico deriva dall'infinitamente potente, come l'esperienza del terremoto, come ad esempio il terremoto di Lisbona, che canta descritto in una sua opera, il terremoto della fine del Settecento, e dell'eruzione vulcanica, del mare in tempesta, eccetera. L'altro giudizio è quello teleologico, in questo caso Kant interpreta la natura come un insieme di parti tutte organiche e finalizzate. Questa finalità interna era già stata designata da Aristotele con il termine intericheia, avere il fine in sé. Il giudizio teleologico, pertanto, non è un giudizio determinante, ma un giudizio riflettente, in quanto non coglie gli aspetti conoscitivi e scientifici della natura, ma rispecchia solo il nostro modo soggettivo di rappresentarci le cose. Non ha un valore costitutivo, ma regolativo.